eccoci qua siamo siamo in diretta buongiorno a tutti ciao Max il mio compagno di di banco ma da mai è un bel po' di tempo che non siamo seduti eh a fianco eh e oggi affrontiamo un 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 tema come sempre nella nostra trasmissione abbastanza particolare eh parliamo di calcio senza parlare di calcio parliamo del rapporto tra il calcio e il cinema questo rapporto che ha circa centodieci anni di vita il primo film sul calcio è un film mutuo del millenovecentondici eh ma è un rapporto molto ma molto complesso è difficile ehm e ne parliamo con Marco Chito Coppola un giovanissimo e promettente regista e sceneggiatore eh che dal duemiladieci al duemilaquindice è stato a New York e ha studiato al al master della della Tish così eh Marco si chiama si chiama così questo prestigioso eh master è che che poi per circa otto anni ha lavorato a eh a stretto contatto con il mondo del dello sport soprattutto basket NBA eh si dichiara tifoso dei eh dei Bulls e eh ha avuto anche una fortissima penitenza da pagare perché eh Netflix lo ha coinvolto nel nella nella produzione nel montaggio del docufilm eh sulla sull'annata della eh della Juve quella in cui si sperava insomma nel triplete eh mi ha mi ha raccontato insomma che eh la nasce come dire questa eh questa produzione proprio che si sperava che quella era l'annata del triplete e lui ha dovuto subire come massimo una penitenza incredibile cioè ha dovuto montare innanzitutto montare come come dire il 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 docufilm di quell'anno per noi non finito bene e soprattutto ha dovuto assistere e nelle scene del eh del film al Napoli Juventus zero uno con reti di Higuain eh a Napoli unitamente ad un altro eh suo collega tifoso da Juve uno con la maglia del Napoli e l'altro con la maglia della Juve tutto questo per dire poi Marco è un malato patologico del eh del Napoli come noi e quindi quale migliore occasione per parlare con con uno che è tifoso di calcio tifoso del Napoli ma nello stesso tempo lavora eh nel nel mondo del cinema benvenuto Marco e grazie per essere qui con noi oggi grazie grazie per avermi eh per avermi ospite ehm innanzitutto volevo esprimere mh le mie il mio dolore per aver per essere venuto a conoscenza della scomparsa di Gigi Simoni che eh sai mi è per quell'unica stagione che ha vissuto a Napoli comunque mi rimasto nel cuore poi è un signore un galantuomo quindi eh credo sia dovuto eh un momento di condoglianza ecco per tutti noi tifosi del Napoli ma ovviamente anche la famiglia tutti quanti e poi niente io prenderei eh partirei proprio da quell'esperienza che ho vissuto a a New York con il lo show di Netflix della Juventus per parlare del rapporto tra eh sport e calcio in particolare cinema perché eh in quel caso o in quell'esperienza trovai eh particolare ehm particolare eh come dire a particolarmente era particolarmente importante in quel progetto il tipo di accesso che aveva eh la produzione a a determinate cose che eh uno sportivo normalmente non potrebbe avere accesso e in questo senso secondo me eh lo spettacolo la televisione il cinema eh riesce ad implementare il il godimento dello sport quindi dando la possibilità agli appassionati di eh vedere di più di quello che eh loro normalmente vedrebbero sì però il calcio sul grande sul grande schermo e in questo coinvolgiamo Massimo che tra l'altro è un grandissimo fruitore di eh di cinema eh non ha mai riso molto eh eppure il calcio come dire è epico è vita è narrazione ehm è impietoso glorioso divertente tramatico cioè c'è tutta la sceneggiatura per fare per fare qualcosa al cinema sul calcio però mh non non è mai scoppiato se pensiamo che eh gli Oscar sui film sportivi hanno riguardato box baseball ehm ehm no palla canestra no ma box baseball è anche the fighter l'ultimo insomma il kickboxing ehm se pensiamo all'assù qualcuno ci ama Rocky eh il paradiso può attendere sul football americano toro scatenato momenti di gloria le le olimpiadi però sul calcio non ci siamo siamo lontani. Sì ma faccio questa faccio questa domanda perché non è mai scoppiato secondo voi il eh come dire il il successo ehm di un film sul calcio nel nel cinema? Massimo prima tu. Ah per secondo me perché il calcio è uno sport non sport cioè è uno sport fighetto uno sport con c'è la fatinta dove non c'è eh dove non c'è l'epica eh non non si rischia la morte ehm tant'è vero che diciamo il calciatore probabilmente più narrato cinematograficamente è un calciatore fuori dagli schemi come Maradona ehm è scomodato per lui Gusturizza io ho trovato magnifico il documentario di di Capadia però insomma il calcio ehm quindi rispetto a a toro scatenato dove c'è eh eh una grande storia il dramma umano eh quest'uomo che rinasce muore eh i deliri con la moglie insomma queste grandi storie umane nel calcio soprattutto di oggi eh non ci sono poi alcune sono state secondo me opportunità sprecate come ad esempio il maledetto United che è una grande storia e che poteva essere resa meglio cinematograficamente diciamo questo è quello che che io credo molto soprattutto il calcio di oggi è un calcio eh insomma che comunque sia appassiona perché è un business tante persone lo seguono però il cinema credo e Marco poi ce ne credere di più ha bisogno eh come dire di un altro plot di di altre emozioni che secondo me il calcio non riesce a rendere sentiamo Marco ma eh secondo me innanzitutto eh io credo che il calcio non abbia bisogno di essere raccontato perché il calcio è il racconto in sé quindi eh uno dei motivi per cui un appassionato segue il calcio è perché questa ehm questa lunga storia d'amore se vogliamo in cui si seguono degli atleti che ehm ecco ad esempio nel caso nostro seguiamo il Napoli da tanto tempo sono tanti anni che non vince no? E noi vediamo in questo in questa storia eh che è appunto un racconto un racconto o una un qualcosa che ci allena alla vita no? Adesso mi è venuto in mente questo proverbio giapponese che dice cadi sette volte alzati otto no? Rialzati otto e questo è esattamente eh quello che ci insegna il Napoli no? Che è passato attraverso tanti tante peripezie e poi alla fine eh prima o poi vincerà no? Eh però il discorso è questo è che ehm in realtà l'epicità che appunto diceva anche Max eh del calcio o dello sport in generale è diverso rispetto all'epicità della della del cinema di finzione perché o comunque di uno spettacolo perché ehm l'epicità eh dello sport come abbiamo detto allena la vita mentre invece molto spesso ehm quella di finzione eh la vita ce la nasconde e ci propone un qualcosa che ehm noi vogliamo credere che sia la vita non voglio dire mh mi viene in mente l'allenatore del pallone va? Se tu compari il il c il calcio che vedi nell'allenatore del pallone al calcio che vedi tutti i giorni in serie A ovviamente c'è una grande differenza eh vedi appunto una persona che alla fine riesce a venire a capo della della corruzione del calcio e nonostante penso che tutti abbiano visto sto film no? Un un caldo della degli anni ottanta e in quel in quella in quella situazione lui viene viene a capo Aristoteles esce all'ultimo momento entra entra in campo salva la squadra tutto questo ovviamente è lontano da purtroppo quello che vediamo a giorni nostri a parte calciopoli non ci sono grandi episodi in cui il cattivo viene viene sconfitto viene punito per questo dico Marco Marco sull'allenatore del pallone sì sull'allenatore del pallone e questo come dire anche per farci una una risata con Massimiliano pare che l'allenatore del pallone sia stato il film sul calcio che abbia incassato più di più in Italia anche più di febbre a novantesimo di cioè di di film davvero come dire più strutturati però io su questa cosa qua farei una riflessione oggi c'è un pezzo allenatore del pallone perché come dicevi tu tutti i film che hanno puntato sulla riproducibilità nella fiction del gioco del calcio hanno fallito hanno fallito perché secondo me la riproducibilità del gioco del calcio è molto più difficile della riproducibilità del della box piuttosto che del baseball piuttosto che del football eh americano tutti quanti noi quando hanno assistito alla famosa rovesciata di Pelé in fuga per la vittoria tutti gli appassionati di calcio hanno detto vabbè vuoi che palla cioè ci siamo tutti qua bellissimo il gesto ma lui che fa sta cosa plastica aspetta cioè c'è poca come dire riproducibilità della della fiction e poi della realtà e poi credo che è su questo voglio una vostra riflessione che oggi il calcio sia già estremamente eh visto dalle milioni di telecamere che ci sono intorno cioè riprodurre vediamo di tutto noi vediamo da quando si siedono negli spogliatori da come allacciano le scarpe eh quelle che si dicono prima della partita eh come si abbracciano il il gollo te lo vedi da mille angolazioni riprodurre poi nella fiction una cosa reale è come se tu l'avessi come dire già visto mille volte non pensate piuttosto raccontare qualcosa del calcio che non sia la partita possa rendere in termini di eh in in termini di fiction che ne so io in questi in questi giorni di pandemia abbiamo ehm e di lockdown abbiamo assistito alle famose conversazioni tra i calciatori insomma che hanno dimostrato di avere un come dire non proprio un livello culturale elevatissimo ma che raccontavano un dietro le quinte che appassionati di calcio come noi come dire si sopportavano pure eh gli obrobi linguistici e di di calciatori pur di vedere quel film era un film che stavi vedendo cosa pensate al riguardo Max prima allora io insisto sul fatto che secondo me non c'è una storia umana cioè è il motivo per cui noi diciamo oggi quelli che seguivano il calcio è cattivo non c'è una storia umana oggi giocano ma in fin dei conti non c'è eh cioè prendi Rush la formula uno comunque anche quello che era visto l'incidente di Nicky Lauda certo hanno fatto diventare James Hunt il rivale di Nicky Lauda non fu proprio così però insomma eh alla fine è una storia che che ti prende cioè a me io l'ho visto Borg McElroy è riuscito è riuscito meno però eh come dire secondo me vabbè Marco dice di no e lui sicuramente ne sa più di me cioè manca la storia umana cioè manca la storia umana cioè non c'è eh allora che ne so io non amo Sarri ma Sarri è una storia umana però però c'è è qualcosa cioè il film su Sarri eh fatto bene insomma un uomo che lavorava in banca che aveva una sua ossessione passione molti giocatori insomma eh diciamo hanno vite come abbiamo visto su Instagram e come vediamo normalmente insomma banali no hanno molti soldi ma ma non basta avere soldi per come dire per crearti una per farci su una storia che possa prendere quindi stai dicendo storie da raccontare tu non tu non ne vedi tante insomma ne sono però sicuramente ce ne sono poche di di persone interessanti da rendere secondo me cinematograficamente però tu l'avrai visto sicuramente eh eh febbra eh novantesimo e e lì è tutto raccontato eh come dire eh esatto la radiolina eh il è la passione del tifoso rende benissimo diciamo come il calcio la presa del calcio innanzitutto era un calcio anni novanta eh cioè eravamo esatto oggi sarebbe difficile sarebbe difficile riprodurre quel film quel film non è la stessa cosa cioè negli anni ottanta Maradona andava a giocare a Dacerra una partita che troviamo anche il filmato su youtube con le macchine con le lamiere immaginate Messi o Cristiano Ronaldo andava a giocare a Dacerra sul fango insomma è cambiato tutto eh però oggi come quello era riproducibile io un film su quella partita me lo vedrei cioè Maradona che arriva da Dacerra cioè è una roba meravigliosa oggi è impensabile cioè è cambiato troppo ovattato e ovattato ed è anche ipocrite cioè anche la finanza per certi versi ovattata ci sono molti soldi però anche là ci sono storie umane vanno a finire in galera cioè voglio dire eh secondo me c'è bisogno della carne d'uva e caccio a poca carne d'uva. Marco tu? No diciamo che eh parto un attimo da lontano eh giornalisti ok parliamo di giornalisti sportivi eh loro eh si dice che secondo me erroneamente raccontano il calcio ma in realtà eh loro non è che raccontano anche il telecronista il radiocronista no in in inglese si chiama commentator e credo che la prospettiva loro sia più giusta nel senso loro commentano il calcio e quindi anche giornalisti gli opinionisti commentano il calcio perché il calcio ripeto non ha in quanto sport di squadra ecco la cosa interessante è che Max aveva menzionato tutti tutte le esperienze positive con film che ruotavano intorno ad un individuo non ad una squadra no? Eh il il calcio è già racconto di per sé e il cinema se si sforzasse di raccontare il calcio farebbe un film immondo farebbe un film noiosissimo perché vai a raccontare a chi ha guardato eh Napoli Milan Napoli Milan di nuovo non se lo racconti cioè io già l'ho visto che che me lo che non me lo racconti a fare capito? Semmai puoi eh come dicevi tu Vincenzo eh puoi offrire un un altro tipo di accesso ecco quello che dicevo prima no? Cioè puoi dare la possibilità a il pubblico che hai già visto la partita di vedere cose mh che mai mai viste prima ad esempio il documentario su Maradona eh di cui parlava anche Max prima no? Ti fa vedere delle immagini che tu non puoi trovare su YouTube eh quindi ti fai vedere il documentario perché vedi delle immagini della storia noi la conosciamo la storia di Maradona sì è bella è raccontata bene però alla fine niente è meglio della storia reale cioè è quello il discorso e quindi anche per quanto riguarda i film il sai c'è un popolo eh che eh adora il calcio come forse anche più di noi come quello britannico perché è chiaro almeno per il fatto che loro lo seguono da prima visto che è stato credo sia stato inventato là no? Eh e loro sono loro quando vanno a fare una storia su sul calcio in realtà è non è una storia sul calcio è la storia su delle persone ed è contestualizzato nel calcio come ad esempio mi viene in mente Sognando Beckham in realtà quella è una storia quasi di Bollywood a tema calcio ma sarebbe potuto essere la protagonista sarebbe una storia strana esatto avrebbe potuto amare il ballo ma avrebbe potuto amare un'altra cosa la storia sarebbe pressoché uguale la stessa cosa il mio amico Eric eh il personaggio principale fondamentalmente è Ken Lodge no? Eh voglio dire il il personaggio a fianco a lui cioè Eric è questa figura immaginale che gli dà conforto e che è un suo eroe eh infantile però in realtà dell'infanzia però alla fine eh voglio dire può essere un altro personaggio può essere un boxer un pugile può essere capito? Allora ti dico una cosa eh è uscito c'è stata allora ehm se n'è parlato moltissimo di Last Dance no? Il documentario su Mike anche quello è uno sport di squadra sì la la cosa che mi ha colpito soprattutto è stato un un articolo che hanno fatto adesso non mi ricordo il Telegraph credo in cui ha sentito dei dei protagonisti del calcio inglese e gli allenatori hanno detto ma nel calcio non è possibile perché se Jordan nel calcio dicesse la metà cioè se qualcuno dicesse la metà di quello che ha detto Jordan con la rabbia di Jordan i calciatori si metterebbero a piangere Jordan sarebbe cacciato non è possibile e secondo me questo fa la differenza cioè là noi abbiamo visto la carica cioè in America mica non hanno visto i Chicago Bulls l'hanno visti però aspetta a livello proprio di mentalità quello che dicevo la differenza tra l'epicità dello sport l'epicità del cinema no? L'epicità sportiva americana è molto più vicino al cinema di quella italiana nel senso che lì mentre mentre noi amiamo la nostra squadra diamo il cuore ci toglieremmo il mangiare dal piatto per comprarci un biglietto andarci a vedere la partita loro invece vivono lo sport come un intrattenimento pari al cinema e e quindi loro hanno bisogno di grandi personaggi dello sport di creare un'epica intorno che è molto cinematografica basti pensare alla sfida perenne tra Larry Bird e Magic Johnson no? E lo stesso questo documentario che tu mi dici questa miniserie documentario alla quale io sono molto attaccato perché sono appunto un fan di Chicago Bulls e poi tra l'altro è prodotto scoperto e prodotto dalla Mandalay che è la società di produzione che sta seguendo il mio prossimo progetto e quindi sai me lo devo guardare bene e in realtà se tu vedi quella miniserie documentario è praticamente è un film cioè la storia è montata come se fosse pur essendo un documentario ripeto un film ma perché perché è vero hai ragione ci sono dei personaggi che hanno una determinata statura ma quella statura è stata anche costruita da un determinato tipo di società un determinato tipo di società che crea i Mohammed Ali che crea i Michael Jordan che crea i quel tipo di figura io però ritornerei su quello che Massimo da qualche settimana in relazione ai vari argomenti che che sviluppiamo tenta di far passare neppure velatamente insomma e su questo sono perfettamente d'accordo c'è l'ipocrisia del mondo del calcio ok sconfigge addirittura il come dire il livello culturale basso eppure dei calciatori cioè al livello culturale basso dei calciatori che si aggiunge anche un mondo talmente ipocrita che raccontare la sfida tra Maradona e Gullit degli anni 90 se lo può permettere un Maradona che ha il coraggio di dire certe cose così come Michael Jordan eh ha ripetuto più volte che che lui odiava parola che se se la dicesse un calciatore ha ragione Massimo se la dicesse un calciatore sarebbe come dire allontanato da qualsiasi spogliatoio che lui odiava quanto entrava in in campo eh un un avversario per cui sprigionava tutte le energie la parola odio ehm è talmente forte che diventa poi epica per per il cinema epica per un per un docufilm noi quando sentiamo per forse eh prima ho detto io mi sono come dire un ritrovato in quelle conversazioni eh Instagram perché c'era qualcosa di diverso da da ascoltare rompevano qualche schema eh dicevano qualcosa di più generale non era tutto vattato e e su questa cosa qua eh Marco Massimo lo 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 ripete spesso da qualche settimana sono perfettamente è talmente ipocrita il mondo del del calcio eh e mi riaggancio poi una cosa dicevi tu Marco prima talmente ipocrita che neppure i giornalisti sono più narratori di certe particolarità Darwin Pastorin forse uno degli ultimi eh come dire narratori del calcio non commentatori eh cambiamentatori sportivi eh mi mi raccontava mi racconta che la la cosa bella era ascoltare scirea piuttosto che bettega eh dirgli guarda stasera facciamo un po' più tardi o andiamo fuori cioè cose che poi sono diventate talmente ovvie talmente schematiche che non non si riesce neppure a raccontare il problema di giornalisti narratori eh hai perfettamente ragione Marco è una una razza in via di eh di estinzione eh infatti diventano come dire di Massimo può confermare diventano giornali di nicchia quelli che fanno che fanno questo tipo di di eh come dire di di servizio lo stesso napolista critica ma anche narrazione ma penso a undici questo mensile eh che racconta molto molto bene il calcio eh penso al guenisportivo che ha sempre questa 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 vena eh narrativa però c'è questa come dire eh anche ehm scomparsa di giornalisti sceneggiatori chiamiamoli così per cui trovare anche storie interessanti diventa diventa difficile io ora con voi voglio fare eh un ehm un gioco di memoria come sempre Massimo lo sa allora cerchiamo di di suddividere i film sul calcio come dire in 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 temi cioè i film sui tifosi i film sui calciatori le commedie eccetera e quale sono quelle che 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 ricordiamo sia per come dire per la nostra eh passione sia per come dire invece per il valore del film eh in sé per sé e partiamo proprio dal dai film sui tifosi quello che vi ha colpito di più eh che vi è rimasto in in presso ma insomma febbre a novanta febbre a novanta sicuramente è stato un bel film eh un film molto duro che comunque colpì fu fu il tra che fu un film che è premiato a a Berlino eh poi c'è stato anche Hooligans mi pare un altro film credo in mezzo a abbastanza abbastanza forte ma ci fu anche forse ultimo è duro ultimo minuto con Tognazzi un film forse fu uno degli ultimi film di eh di Tognazzi però sicuramente ultra il film eh diciamo che che più colpì il più bello febbre a novanta per quanto mi riguarda anche anche secondo me febbre a febbre a novanta o febbre a novantesimo perché c'è una 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 o piccolina sul novanta che mi sembra febbre a novanta perché è il famoso gol all'ultimo minuto avremmo delirato noi io riguardo quel film riguardo quelle scene vado su youtube spesso a rivedermi quegli quegli ultimi tre minuti di quella partita là eh e e ho la pelle d'oca a parlarne immagino se invece delle maglie russe ma che mi sembrerano bianche quel giorno no russe 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 eh ci sarebbe stata una maglia azzurra in quelle un po' un po' come eh come dire ma Marco lo me l'ha raccontato un po' come il gol di Renica al centoventisti eh di Napoli Juventus di 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 Coppa UEFA quello è un momento epico da eh da 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 raccontare per te Marco film sui tifosi? Eh vabbè su questo concordo al cento per cento con Max i due film che hai menzionato aggiungerei semplicemente quello che avevo detto prima il film di 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 Ken Lodge secondo me è un modo diverso di approcciare eh lo stesso tema perché esplora il rapporto tra il tifoso e e la e il calciatore la celebrità eh con una singolare un singolare equilibrio tra dramma e commedia e quindi è molto lontano forse dalla dall'immaginario che noi abbiamo dell'ultra ovviamente eh che invece viene sempre eh descritto eh come un facino roso come invece mi piace l'approccio ecco delicato l'intimismo che c'è tra eh non noi e i nostri eroi quelli che gonfiano la rete e quindi sui bio invece o i biopic come si dicono i biografici io eh mi verrebbe da dire subito tutti i film fatti su Maradona eh dopo film vengono prima però forse il il primo film in assoluto che ho visto sul calcio è il profeta del gol di di Sandro Ciotti del di Sandro Ciotti del Settantasei che mi è rimasto eh nella mente non solo perché racconta come dire eh quel grandissimo campione ecco epico per certi aspetti narrabile perché Cruyff non è stato solo un grandissimo calciatore ma è stata una una persona con una testa eh enorme che ha rivoluzionato anche certi certi modi di pensare calcio non solo eh nel sul terreno di eh di gioco ma io mi ricordo una scena bellissima che è quella ripresa durante la partita Italia-Olanda l'Italia becco una di quelle eh e ci fu come dire mi sembra che fu l'ultima partita di Giuliano Giuliano e Orlandini del Napoli cioè io me lo ricordavo che andai al al cinema per vedere Giuliano e Orlandini piuttosto che vedere Cruyff quindi sono molto malato insomma ricorda ricoveratemi Massimo per te. Allora a me eh è piaciuto molto il film di Capadia su Maradona e però io credo che narrativamente hanno funzionato funzionato molto buffa a Sky cioè quel quel format di di un'ora ha intervallato con raccolti diciamo una eh sue narrazioni filmati musica secondo me quello è un format che funziona forse funzionerebbe anche al cinema non lo so Marco? Allora premesso che secondo me la forma del biopic eh quella migliore per raccontare il calcio perché appunto approfondisce Zoom eh Zuma in un nella personalità nell'individuo che 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 svolge questo sport scoprendo aspetti diversi dal semplice dare un calcio a un pallone e quindi approfondisci la loro vita ehm riconosci la loro umanità la loro vulnerabilità e questo è diciamo il più grande è il più grande privilegio che mh che ha il cinema eh quello di scoprire l'umanità dietro delle icone eh abbiamo visto film magnifici di personaggi come non so Ray Charles come lo stesso Muhammad Ali abbiamo visto dei film fantastici su dei personaggi ecco Bohemia Raps di Freddie Mercury no? Che altrimenti eh i i semplici fan non non potrebbero sapere e ovviamente vogliono sapere e quindi i biopic sono tutti belli secondo me non ce n'è uno in particolare veramente nel momento in cui si approfondisce una personalità come ad esempio può essere nel caso della biopic su Pelè no? Che è uscito recentemente eh nel momento in cui si approfondisce una persona anche non non deve essere il più grande campione del calcio che la storia si ricordi ma semplicemente è una persona interessante una personalità interessante e e nel momento in cui lo fai rendi sempre un grande servizio a chi è appassionato di questo sport e ovviamente è un film interessante sulle commedie e i film comici non abbiamo dubbi l'allenatore nel pallone ci ha ci ha coinvolti tutti e quindi credo che quello sia sia anche se a mi piacque anche eccezionale veramente di ecco quel film comico di di Carlo Vanzina con un giovanissimo a batantuono eh però l'allenatore nel pallone la vero lì ci sono delle scene che verranno ricordate per 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 noi tifosi del calcio per una vita intera insomma addirittura io pure 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 cinema 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 Marco è giovanissimo l'avrà visto sicuramente dopo ma io l'ho visto a cinema e addirittura Massimo non so se sei d'accordo eh i i personaggi del film dell'allenatore del pallone sono diventati poi riferimenti eh benchmark eh come dire per i calciatori veri cioè noi quando abbiamo un noi abbiamo chiamato Aristotele qualche centravanti insomma del Napoli eh di di colore che aveva le moventi no Beto non era proprio Aristotele ma c'era stato qualcun altro che ci era quindi è diventato è diventato epico il il personaggio del della della commedia e che viene poi trasferito trasfigurato solo su un calciatore Massimo tu no al di là di eh film comico sicuramente l'allenatore nel pallone cioè senza senza dubbio poi sui film in generale invece eh c'è anche Sorrentino che ha fatto un film sul calcio in qualche modo perché il suo primo film non in più è il film sul calcio tra l'altro bello anche anche Wim Wenders in realtà Wim Wenders il suo primo film è stato prima del calcio di rigore che è un thriller che è incentrato sulla figura di un portiere di un ex portiere in realtà però pur sempre su Sorrentino credo che addirittura lui metta calcio dappertutto perché la scena in eh the pop the new pop del del eh del bescovo ovve con la maglia di eh del Napoli eh è è qualcosa di di geniale lui lui il calcio è il calcio è il Napoli lo mette lo mette quasi sempre in ogni ogni nella prima serie eh mi disse uno che lavorò con lui che quando per far capire a Giudlo cioè far capire per illustrare a Giudlo come doveva fare in tutto punto una una scena così e lui disse tu devi pensare a Runei quando esulta dopo il gol e si capirono immediatamente perché Giudlo è un grande tifoso di calcio un grande appassionato di calcio bene ci abbiamo alla alla conclusione come sempre ci ci divertiamo a parlare eh come ripeto spesso di calcio senza eh senza parlare di calcio e allora facciamo questa eh questo esercizio di sceneggiatura eh come finirà questa stagione? La dobbiamo scrivere ora senza eh senza preoccuparci insomma di fare i commentatori se io la dovessi sceneggiare vi dico la mia la scrivere questa cosa qua playoff a sei eh con il Napoli dentro il Napoli che vince lo scudetto e la Juve fuori dalla Champions perché eliminata al primo turno perché gioca contro il Napoli prima e sesta si si incontrano e gioca contro il Napoli gliel'ho fatta la mio Max tu vabbè cinematograficamente eh deve vincere l'Atalanta se vogliamo fare i playoff vogliamo dire che dopo la pandemia diciamo il film è la vittoria dell'Atalanta magari è l'Atalanta vince la Champions dai noi o l'Atalanta vince la Champions bravo giusto l'avevo dimenticato che l'Atalanta vince è vero hai ragione Marco tu ma innanzitutto io non so se siamo a primo atto secondo atto terzo atto perché poi questa stagione ci ha scombussolato tutti no eh io al contrario di te io mi auguro invece che che si che si che si riprenda al campionato così com'è senza playoff e vorrei che la Juve perdesse per de meriti conclamati perché secondo me la Juve di Sarri è abbastanza disfunzionale proprio come non me la conta giusta non mi sembra così forte come e e poi invece probabilmente la il sogno ecco l'happy ending di questa stagione per me sarebbe riuscire a sconfiggere il Barcellona e chissà poi dopo vedere cosa succede magari non so bene 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 ci ci salutiamo ringrazio Marco qui auguro di vederlo nei prossimi anni su un tappeto rosso eh di qualsiasi manifestazione che possa consentirgli di prendere un premio in quella circostanza ricordati di me e di Massimiliano e e e invitaci perché non abbiamo mai partecipato a una serata finale per un premio cinematografico eh ti saluto Marco grazie grazie davvero grazie a te ci vediamo ci vediamo la seconda cosa ciao Massimo ciao 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 Grazie a tutti.